Buongiorno amici e ben ritrovati. Oggi ci troviamo qui nella sede del Gino Store in Via Torino 234 a Madonna dell'Olmo Cuneo. Qui accanto a me l'ospite della giornata è la Mini Clubman, la piccola di casa mini dinamica per le giovani famiglie. Le vetture che vi proponiamo sono equipaggiate con un motore nuovo tre cilindri interamente sviluppato da BMW, 1500 cm3 di cilindrata, 136 cavalli di potenza. Sono motori turbo benzina e pensate che hanno la coppia massima disponibile già a 1850 giri. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se io sono con una marcia bassa e devo fare un sorpasso, premo l'acceleratore e la macchina molto velocemente mi permette di compierlo. Questa Mini Clubman è cresciuta rispetto alla generazione precedente perché siamo arrivati ai 4,30 m di lunghezza. Mantiene la classica apertura libro posteriore ma finalmente a quattro porte vere. Le vetture che abbiamo il piacere di proporvi sono tutte in allestimento Cooper, uno degli allestimenti più ricchi. Da che cosa le riconosciamo? Dalla caratteristica distintiva della Mini Cooper ovvero del tetto a contrasto rispetto al colore della carrozzeria. Le macchine sono disponibili in diversi colori quindi dal bianco al Pure Burgundy che è un colore completamente nuovo che ha debuttato con Mini Clubman. Le vetture sono tutte accessoriate con navigatore satellitare, comandi radio al volante e cruise control. In più le nostre vetture hanno sedili riscaldati e antifurto di serie. Ve le proponiamo a un prezzo irripetibile di 16.900 euro più spese di voltura. Pensate che siamo quasi alla metà del prezzo originale di listino. Sono vetture provenienti da casa madre e sono tutte quante coperte dalla garanzia ufficiale italiana Mini Next. Sono vetture ovviamente IVA esposta quindi sono disponibili sia per il privato che fatturabili per il libero professionista. Tutte le vetture sono interamente finanziabili. Potete dare un piccolo anticipo, pagare delle piccole rate e portarvi a casa una macchina che è mini nel nome ma anche nel prezzo. Io in compagnia delle nostre Mini Clubman vi aspetto qui nelle nostre sedi di Piemonte, Liguria e Toscana. Vi ringrazio, vi saluto e vi do a rivederci alla prossima. Ciao!